Al Macrelli di San Mauro Pascoli il notaresco si arrenda alla San Maurese al termine di una partita tutt'altro che spettacolare e avara di occasioni. Mister Cudini conferma il 4-3-3 con il tridente Massetti Minella Liguori, 3-4-3 invece per i giallorossi di Mastro Nicola che rinunciano allo squalificato Zuppardo e si affidano a Capitan Bonandi, coadiuvato in avanti da Santoni e Lovati, presenti sugli spalti anche un centinaio di tifosi giunti da notaresco al seguito della squadra. In avvio la partita è equilibrata e dopo una prima fase di studio per sbloccarla al diciottesimo corre un calcio piazzato sul corner battuto da Scarponi, il più veloce a schiacciare di testa è Nicola Slombardi, Monti prova a mettere la mano ma la sfera si insacca alle sue spalle per l'1-0 dei padroni di casa, cinici a colpire alla prima vera occasione utile. La reazione del notaresco tarda ad arrivare, vuoi anche per la solidità della difesa locale, la squadra di Cudini pur facendo tanto possesso palla fatica a trovare spazi e a farsi veramente pericolosa, alla mezz'ora la sponda di bontà per Minella al limite dell'area, la chiusura di Scarponi su di lui e il giallo da parte del fischietto siciliano Madonia che ammonisce per simulazione l'attaccante rosso-blu. La gara stenta a decollare, il notaresco cerca di fare la partita alla San Maurese, controlla per poi far male in contropiede come al 42esimo, quando il capitano giallo-rosso Bonandi approfitta dello svarione in fase di disimpegno e se ne va sulla destra. Il colpo di tacco per Santoni che prima centra il palo per poi ribadire in rete la palla del 2-0. Durante l'intervallo mutano notevolmente le condizioni meteorologiche con pioggia e vento fortissimi che si abbattono sul Macrelli e che condizioneranno inevitabilmente l'andazzo di una ripresa già di per sé bruttina. È il notaresco a fare gioco nel tentativo di recuperare il doppio svantaggio, sospinto anche dai suoi tifosi rimasti sotto la pioggia abbattente, ad incitare rosso-blu fino alla fine nonostante il passivo. Al dodicesimo Bontà lanciò la barba, l'inserimento del terzino e la chiusura efficace da parte di Merciari. Vuoi l'avversario, vuoi le condizioni meteo spavorevoli, il notaresco schiaccia la Samorese nella propria metacampo, ma non riesce a creare pericoli. Le fonti di gioco sono ben controllate dai perni della difesa giallorossa, come al ventottesimo quando Minella mette un buon pallone per Bontà, ma Maioli è attento. E al trentaduesimo il pericolo che i locali facciano il Tris è sventato da Monti, che neutralizza il diagonale velenoso di Lohuati. Cudini prova a inserire anche forze fresche, ma il leitmotiv della gara non cambia. Nel finale i rosso-blu tentano il tutto per tutto e l'azione più pericolosa di tutta la gara è quella che potrebbe riaprire il match in extremis quando Minella costringe a dare spinta la difesa, la sfera arriva a Petrarulo, la girata da due passi e Baldassarri, che para sulla linea anticipando Bontà in agguato. Termina di fatto qui, con la seconda sconfitta consecutiva per il notaresco, a cui fa da contraltare la seconda vittoria stagionale della San Maurese. Ma non c'è troppo tempo per rimuginarci su, perché mercoledì si torna già in campo. L'avevamo preparata in un certo modo e ce l'aspettavamo diversamente, invece è venuta fuori una partita nel primo tempo giocata soprattutto da noi, sotto certi aspetti, con la San Maurese un po' più bassa come altezza, però hanno sfruttato due occasioni e diciamo che la partita oggi è stata decisa da due episodi, un calcio d'angolo e una ripartenza da parte loro, per il resto non abbiamo fatto un discreto possesso, ma siamo stati poco pericolosi in fase di conclusiva. Gioca bene questo notaresco, però poi pericolosità delle conclusioni quasi zero. Sì, oggi non siamo stati sicuramente pericolosi come lo speravamo, come l'avevamo preparata, però non è mai facile contro squadre che magari senza nulla togliere, ci mancherebbe agli altri che si abbassano tutti dalla linea della palla, 4-5-1, quindi è venuta fuori una partita che forse non è nei nostri canoni, però devo dire che i ragazzi hanno messo in campo quello che dovevano mettere sotto l'aspetto dello svolgimento della gara, poi sicuramente bisogna migliorare in questo frangente nella parte realizzativa, questo sì. Un plauso finale per questi tifosi che anche sotto la pioggia, sotto questo tempaccio, a due ore di distanza da casa, hanno comunque seguito la squadra. Sicuramente sì, di questo ci dispiace non averli accontentati sotto l'aspetto del risultato, di quello che forse ci aspettavamo tutti, però ci fa piacere che siano seguiti anche fuori, nonostante la distanza sia lunga, speriamo nelle prossime gare sicuramente di dare le soddisfazioni che meritano. Mister, una partita vinta soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa avete gestito il risultato senza correre troppi rischi. Sì, un primo tempo secondo me ben giocato da parte nostra contro un avversario importante e ben messo in campo. I risultati finora parlavano chiaro a favore loro. Noi abbiamo preparato questa partita così come le prepariamo le altre, nel migliore di raccogliere il massimo durante la gara. Oggi ci siamo riusciti, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un po' di fattori che hanno fatto sì che noi arretrassimo un po' troppo, sicuramente la spinta del San Nicolò, anche le condizioni del tempo che sono cambiate così improvvisamente, però credo che il San Nicolò abbia avuto ovviamente l'intenzione di recuperare la partita. C'è stata una sola sconfitta finora, quindi vuol dire che la squadra comunque ebbe messa in campo una squadra solida? Noi cerchiamo di lavorare ogni settimana per raccogliere punti ogni partita. Noi siamo una squadra che deve pensare a fare questo.